la vittima poi di appunto aggiungere dettagli preziosi su questa vicenda voi grazie luca uccisa con una ferocia inaudita dicono gli inquirenti antonella la quarantenne assassinata ciro marina in calabria avrebbe lottato con il suo assassino si segue la pista passionale per la morte di antonella lettieri la donna trovata massacrata nella sua casa di ciro marina in calabria la sera dell'otto marzo la quarantenne che lavorava in paese come commessa e viveva da sola è stata colpita con una ferocia inaudita ma avrebbe lottato con il suo aggressore l'omicida che quasi sicuramente conosceva si è accanito su di lei ferendola alla testa in diverse altre parti del corpo con un oggetto contundente e forse anche con un coltello entrambe le armi non sono state ancora rinvenute gli investigatori ipotizzano che l'aggressore abbia atteso la donna sul retro della casa e l'abbia colpita proprio mentre rientra in generale un po' di l'aspirata un po' di un po' di l'aspirata l'aspirata avrebbe Grazie.